Buonasera, buonasera da Honda, tigina apertura subito la notizia del giorno, consegnate le chiavi a Sulmona del nuovo ospedale Super Sicuro, una giornata di festa per la città, per il territorio o quasi, vediamo tutto nel nostro servizio. Grazie a tutti. La struttura ospedaliera ci ha pensato il vescovo di Summona Valva, Monsignor Michele Fusco. Un edificio nuovo e completamente antisismico che prevede menze ospedaliere e depositi al primo piano, farmacia ospedaliera, pronto soccorso e radiologia, piano terra, cardiologia, ortopedia e utica al primo piano, chirurgia generale, neurologia, autorino oculistica, urologia, secondo piano, lungodeggenza, medicina generale e reparto dei detenuti al terzo piano. Con l'attivazione della struttura e privato finanziatore ne diventa proprietario per un periodo di vent'anni e l'ASL, pagando un canone anno di locazione di circa 1.800.000 euro, ne acquisisce la proprietà al versamento di tutte le rate, anche se il contratto prevede riscatto anticipato dell'immobile a partire da secondo anno. Ho sempre sostenuto che alcune argomentazioni ci sono e altre a mio avviso meno e ho sempre lavorato nella direzione nella quale il territorio tutto mi ha richiesto, ha argomentato, ha spinto e ho sempre accompagnato senza preclusioni, senza mai offendere nessuno, qualsiasi tipo di richiesta venisse dal territorio. Io continuerò a farlo, come ho fatto sul punto nascita, e le persone di questo territorio possono confermarlo, così come anche lavorando su un contenuto di questo presidio ospedaliero, dell'offerta ospedaliera del territorio, vuole già dimostrare in sé, perché tutti i contenuti collegati a una classificazione della di 1.000 euro sono ragionevolmente e ampiamente riconosciuti nell'offerta dei reparti che abbiamo messo in campo. La riconsegna del primo ospedale antisismico della regione Abruzzo è da guardare veramente con grande gioia e con i migliori auspici perché da questo si possa ripartire in maniera decisa per poter ridare a questo territorio una sanità di alto livello su cui noi stiamo puntando già da diverso tempo. La presa in consegna dell'ospedale nuovo è un evento importantissimo per questa comunità, per questo territorio, per la città di Sulmona. Quindi mi pareva corretto e opportuno sottolineare gli aspetti positivi perché sono molti, sono prevalenti. Questo non significa che quei problemi che sono stati rissegnalati non ci siano, però oggi era giusto dedicarsi a questa struttura. 3 milioni di euro sono stati spesi per l'acquisto di moderne attrezzature, tra cui la TAC a 64 strati e la risonanza magnetica nucleare, che grazie all'impulso dell'ex assessore regionale Andrea Gerosolimo sarà disponibile nel 2019. 10 milioni di euro sono stati stanziati per la riqualificazione della nuova, demolizione alla vecchia, realizzazione delle superficie per gli elicotteri del 118. Il nuovo ospedale è un segno concreto, ora bisogna riempirlo di contenuti e soprattutto di utenti. Sarà operativo se tutto va bene per la metà di febbraio, ma oggi per comitati e cattolici non è stato solo un giorno di festa. La protesta messa in scena merita però un discorso a parte. Parliamo ancora dell'annunziata bis, politici da una parte, manifestanti dall'altra. Stamattina è stato un taglio del nastro subissato da cori e striscioni di protesta. Facciamo il punto nel nostro servizio. Ci sono mancati gli investimenti in questi anni, sì o no? Ma ci sono mancati le valutazioni, io te le ho date e la nazionale non te l'ha dato, ma siamo a scherzati. Sono d'accordo, non scherziamo, non mi fate fare la parola che io non sono così di carattere. Però gli investimenti sul punto nascita e sull'ospedale finora non ci sono stati. Va bene, dai, voi non dà prefetto. Un taglio del nastro subissato da fischi, quello che ha segnato il momento della consegna, del nuovo edificio dell'ospedale dell'annunziata, il primo ospedale antisismico d'Abruzzo. Circa 200 persone, tra cui anche un gruppo di associazioni cattoliche, di sindacati e movimenti civici, hanno protestato costricioni e cartelli per chiedere la classificazione di primo livello per l'ospedale di Sulmona, così come era prima del nuovo piano sanitario regionale in vigore dal 2016. Di primo livello, Sulmona, ospedale di primo livello, Sulmona. Ma non lo debbono dire i cittadini, lo debbono dire i politici, quelli dall'altra parte che per votare una delibera di Consiglio Comunale si hanno messo due anni, vergogna. Sono arrivati a rasficciolati i manifestanti, prima di schierarsi da un capo all'altro della tenso struttura dove è cominciata la cerimonia di presa in consegna. I politici si sono nascosti ma le inaugurazioni si fanno in mezzo alla gente, hanno osservato subito alcuni manifestanti un serpentone di stricioni con una serie di scritte a difesa di reparti e servizi. Sia l'ospedale di primo livello si legge e ancora il punto nascita non si tocca, come pure il centro Abruzzo non si tocca. Qui serve una modifica a piano sanitario regionale, non possiamo accettare la passerella di alcuni politici che prima si sono accontentati di un presidio di base e poi hanno chiesto il primo livello, tuonano in coro i manifestanti. Anche durante e dopo il taglio del nastro i fischi sono continuati, tanto da disturbare anche la benedizione del Vescovo. È una vergogna. Oggi se hanno il coraggio devono dire alle istituzioni regionali che questo è il momento di vedere inserito questo presidio ospedaliero nella rete ospedaliera regionale con dignità, riconoscendogli il primo livello come è sempre stato. Bisogna riempirla di contenuti e quindi bisogna necessariamente rivedere il piano sanitario regionale e debbono restituirci in ospedale di primo livello, senza il quale non sarebbe possibile avere le unità operative complesse. Ci vuole il personale, ci vogliono i macchinari che non siano obsoleti, ci vuole assolutamente la figura dei primari e assolutamente bisogna riconoscere che se non si riconosce che il diritto alla salute è un diritto costituzionalmente riconosciuto per tutti e non può essere un privilegio di pochi, allora non si è capito nulla. La sanità oggi si fa con le risorse umane e con le strumentazioni tecnologiche all'avanguardia. Quindi la situazione attuale non è delle migliori, abbiamo due primari oggi ancora in servizio e tra qualche mese un primario andrà in pensione. Quindi ci troveremo in una situazione di criticità e consideriamo che da oggi l'azienda dovrà pagare per circa 20 anni un milione di euro e quindi per averlo come riscatto. Quindi se io fossi un imprenditore, vero, dovrei far fruttare questo nuovo ospedale perché io sto tirando fuori i soldi e di conseguenza incomincerei subito da subito ad accelerare i concorsi per i vari direttori e lavorare su quello che veramente ha già programmato come una risonanza magnetica che io non ho visto nel presente installata nel nuovo ospedale. Contestazioni sono arrivate anche quando Paolucci è uscito dal nuovo corpo ospedaliero per lasciare Sulmona ma le manifestazioni di protesta sono state tutte composte senza creare problemi in termini di ordine pubblico. Non è finita qui perché proprio sul nuovo ospedale preso in consegna questa mattina c'è stato anche lo sgarbo istituzionale. Snobbati gli ex sindaci di Sulmona, Peppino Ranalli e Fabio Federico. Con loro era partito e era andato avanti il progetto del nuovo nosocomio. Sentiamo nel nostro servizio. Ex sindaci snobbati per la cerimonia di presa in consegna del nuovo ospedale. Uno sgarbo istituzionale che in tanti hanno notato visto che questa mattina al taglio del nastro non erano presenti nell'ex Peppino Ranalli che posò quattro anni fa la prima pietra sul cantiere del nuovo nosocomio e ne un altro ex primo cittadino, Fabio Federico, che si occupò di presentare il progetto e trovare i fondi. Un disguido politico istituzionale tale però da rimbalzare agli onori della cronaca. Il primo ad uscire allo scoperto è stato proprio Federico. E oggi è una cosa che la città ha, è vero, è stata fatta dalla mia amministrazione. Poi c'è stato il sindaco Ranalli che ha posto la prima pietra e a lui va anche il merito di averlo fatto. Il sindaco attuale che ha tagliato il nastro è al merito al sindaco attuale di aver tagliato il nastro ma è qualcosa di più importante, è qualcosa che ha la città. Il buon gusto avrebbe voluto, così come quando si inaugurò il teatro, che anche i sindaci non hanno partecipato a questi, fossero invitati alla manifestazione. Però non ci attacchiamo a questo perché, ripeto, la cosa importante è che la città sia dotata di questa importantissima struttura. Federico tiene a sottolineare che grazie alla sua amministrazione, in particolare agli assessori Cirillo Guerra e Tirabassi, e all'ex direttore generale Asle, Giancarlo Silveri, sul monagode di un ospedale completamente antisismico dove si può operare contestualmente a una scossa di terremoto anche di alta intensità. Sapere oggi invece che chi si va a operare, si opera in un ospedale sicuro in qualsiasi evenienza, in qualsiasi scossa di terremoto, con sale operatorie nelle quali si può operare addirittura in corso di sisma di settimo grado, credo che sia una cosa importante di cui i nostri rappresentanti, anche a livello regionale, che finora sono forse stati un po' poco attenti a questa cosa, debbano prendere atto e debbano comportarsi in maniera conseguente. Decisamente più dispiaciuto per lo sgarbo istituzionale l'ex sindaco Peppino Ranalli, lui che quando inaugurò il teatro comunale a dicembre 2013 fece salire sul palco il suo predecessore, Fabio Federico. Ranalli si aspettava un invito non tanto per aver posato la prima pietra, ma anche perché ad agosto 2015 si assunse la responsabilità di non chiudere l'ala vecchia del nostro acomio dopo il blitz dei NAS. Da quel giorno scattarono una serie di misure per potenziare l'ala nuova. Arrivarono le sale operatorie che dovevano essere inaugurate a Capodanno e ci fu l'accelerata per il nuovo ospedale, ricorda l'ex sindaco Ranalli, confermando di non essere stato invitato. Eppure di ex amministratori ce ne sono tanti nell'attuale amministrazione comunale, ma evidentemente la memoria storica questa volta non è bastata. Lasciamo la sanità, torniamo a parlare a distanza di tempo della statua di Ovidio con il basamento di piazza 20 Settembre danneggiato, nessuna fuga, si difende, l'automobilista rintracciato da Onda Tg. È stato un incidente di percorso e la mia posizione è stata regolarizzata con la polizia municipale, nessuna fuga e soprattutto nessuna minaccia. A parlare a Onda Tg e l'autore del gesto che lo scorso 2 novembre rimbalzò gli onori della cronaca. Si tratta del danneggiamento e l'abbasamento della statua di Ovidio in piazza 20 Settembre fresca di restauro, un episodio che fece scalpore soprattutto perché stando alle prime testimonianze l'automobilista, dopo aver fatto il botto, si sarebbe dileguato senza farsi identificare dalle forze dell'ordine. Poi il giorno dopo è spuntato il testimone che Onda Tg aveva raccontato di aver visto l'attore del gesto e di averlo invitato a recarsi al comando della polizia municipale. Il testimone non solo avrebbe ingassato il rifiuto ma anche una presunta minaccia. A distanza di tempo l'automobilista in questione è stato rintracciato da Onda Tg. Vive a Chieti, si chiama AC. Preferisce far cadere tutto nel dimenticatoio senza tornare sull'argomento e di conseguenza restare nell'anonimato, ma non per sottrarsi le responsabilità ma per non alimentare altre polemiche. Di fronte a un'accusa di minaccia sono rimasto esterrefatto anche perché io non riesco a far male nemmeno a una mosca, interviene l'autore del gesto spiegando di essersi legato al comando della polizia locale ed aver lasciato tutte le generalità. Come pure ha suggerito l'autorità preposta, ristallare una recinzione intorno al basamento della statua per proteggerla da qualsiasi infiltrazione. Ci ha rimesso anche parte dell'auto, possiamo dire, oltre il danno, la beffa che osa l'automobilista che ha già dimenticato quell'incidente di percorso. E ora il Delino Morandi, sopralluogo per il rientro a Sulmona sull'ex convento di Sant'Antonio, ma il preside mette i paletti. Facciamo il punto nel nostro servizio. Vanno avanti i lavori e procedure per il rientro a Sulmona delle aspiranti ragioniere geometri, ma nel sopralluogo congiunto di questa mattina sulla nuova sede alternativa dell'ex convento di Sant'Antonio è stato il dirigente scolastico Massimo Di Paolo a presentare alcune osservazioni assieme ai responsabili per la sicurezza del Polo Fermi. Nulla che non si possa risolvere adeguare, per intenderci, ma il preside ha voluto dire la sua per rappresentare tutte le criticità riscontrate e a divenire a un rientro a Sulmona ma in assoluta serenità. Siamo contenti del lavoro che si sta facendo. Certo è che la cosa prevede ancora una disamina attenta per quanto riguarda le normative di sicurezza antincendio. Noi aspettiamo di avere la documentazione completa dei vigili del fuoco, interviene Di Paolo, riferendosi alla scia antincendio che dovrà essere rilasciata al termine dei lavori. Come pure il preside non manca di sottolineare il fatto che la scuola ha contribuito ad adattare gli ambienti e la popolazione scolastica, anche se non sono gli ambienti di Pratola per quanto riguarda la comodità e la giatezza. Il riferimento questa volta alle palestre ha fatto che molto probabilmente si dovrà bussare alla porta delle strutture sportive limitrofe. La preoccupazione di Di Paolo riguarda però l'eventuale auspicato incremento delle iscrizioni perché tutti, lui compreso, tengono al rilancio del Denino Morandi. Se l'uscire dei ragazzi diplomati sono compensate con le iscrizioni va bene, altrimenti non c'è posto, fa notare, precisando ancora che da sovralluogo è venuto fuori, che il via libera trasloco arriverà quando tutte le autorizzazioni saranno messe nero su bianco. Le osservazioni del dirigente scolastico non sembrano spaventare l'amministratore della Sant'Antonio SRL, Walter Tirimacco, secondo il quale la scia antincendio viene sempre concessa al termine dei lavori, come pure la ditta ha previsto un ulteriore spasio per accogliere gli studenti, qualora il numero delle iscrizioni superi il numero degli alunni iscritti alle attuali classi quinte. A sovralluogo di questa mattina sono intervenuti anche il consigliere provinciale Moro Tirabassi e dirigente del settore edilizia scolastica Stefania Cattivera, che ha preso in carico tutte le stanze da legare agli atti. Sul liceo classico, cinque incontri in un anno, il comune di Sulmona pronto a collaborare con la provincia presenta il conto. Cinque incontri tenuti nell'arco di un anno, una serie di missive recapitate per chiedere conto dello stato dell'arte del progetto. E' il report che arriva da vice sindaco e assessore allevori pubblici Nicola Angelucci che torna a bomba sulla vicenza del liceo classico di Sulmona. Un problema annoso che resta ancora risolto, nonostante che da quel maledetto 6 aprile 2009 sono ormai passati quasi dieci anni. Angelucci non si perde d'animo. Da un lato rendi conto all'operatore del comune, dall'altro si dice pronto a collaborare con la provincia dell'Aquila per un'azione istituzionale sinergica, volta a sbloccare la situazione. A riaccendere riflettori sulla sorte della storica serie dei liceali è stato il consigliere provinciale Moro Tirabassi, che ha chiesto una commissione edilizia scolastica in provincia alla presenza del Genio Civile, dove giace il progetto definitivo esecutivo per il miglioramento sismico dell'edificio scolastico di Piazza 20 Settembre, contanto le integrazioni chieste e presentate ben 17. Nell'arco di un anno, da quando ho preso in mano la delega ai lavori pubblici, ho ottenuto 5 incontri e ho inviato altrettante lettere di sollecito, fa sapere Angelucci, come a dire che il comune non è rimasto e non ha intenzione di restare a guardare. Ma per il vice sindaco questo è il momento di unire le forze. Sono particolarmente rallegrato di fare un gioco di squadra con la provincia dell'Aquila, che ha chiesto di convocare il Genio Civile. Avere un'istituzione al fianco significa lavorare meglio, ma anche rendere partecipe la provincia di quanto lavoro deve fare l'amministrazione comunale di Sulmona, Chiosa, il vice sindaco. Con determina del dirigente del quarto settore, Medeo Deramo, era arrivato nei mesi scorsi il Via Libera, alla verifica del progetto esecutivo che deve ancora essere approvato. Nell'ultima assemblea al Cinema Pacifico, docenti e studenti del liceo hanno chiesto la modifica dell'indice di vulnerabilità da 0,68 a 0,80. Stando al nuovo cronoprogramma, entro giugno 2018, dovevano essere completate tutte le procedure che avrebbero dovuto portare all'approvazione del progetto definitivo esecutivo di miglioramento sismico e all'avvio della tanto attesa gara d'appalto. Ma anche giugno è passato e si sta per raggiungere un record che forse non ha precedenti. Per i lavori ci sono a disposizione 4,2 milioni di euro, di cui la metà ottenuta con delibera cipeda. Dall'amministrazione Ranagli all'altra metà rendi contata dalla provincia dell'Aquila nell'era dei Crescentis, quando sugli scranni della provincia c'era anche Roberta Salvati, poi sbloccata dalla regione. E ora il caro pedaggi, la messa in sicurezza delle autostrade a 24 e a 25. Domani si scende in piazza con l'appello di Cassini e Angelone. Sulmona vuole far sentire la sua voce a Roma contro il caro pedaggi per la messa in sicurezza dell'autostrada a 24 e a 25. Stanno arrivando le prime adesioni all'appello lanciato dal sindaco di Sulmona, Anamaria Casini, che ha chiamato raccolta il territorio, ma al momento la risposta non è che sia poi così massiccia. C'è ancora tempo per aderire alla mobilitazione e scendere in piazza. Il nostro territorio montano ha ingravato la crisi economica. Riteniamo sia necessario attuare un potenziamento del sistema dei trasporti, ad oggi obsoleto, per renderlo maggiormente efficiente ed efficace. Questo in considerazione anche di un incremento del turismo e il rilancio dei nostri territori, interviene il sindaco Casini. Chiediamo che vengano applicate adeguate politiche da rifare e di lunga durata, a vantaggio dei pendolari che quotidianamente utilizzano le autostrade per motivi di lavoro, di studio, di salute e di tutti i viaggiatori per contribuire allo sviluppo delle nostre aree interne, conclude invitando i sindaci del comprensorio a prendere parte alla manifestazione in programma per domani 5 dicembre alle ore 10.30 a Roma. L'assessore comunale Antonio Angelone si appella invece ai consiglieri comunali di maggioranza e minoranza perché è una problematica che coinvolge tutti al territorio, ai sindacati, alle associazioni per partecipare alla mobilitazione. E ora la pagina dell'economia dell'occupazione 16 milioni di euro per sostenere le imprese e l'opportunità del microcredito che esclude però ancora una volta le SRL. Sentiamo tutto nel nostro servizio. Una seconda possibilità per le imprese che non ce la fanno ma anche un'opportunità per le imprese che vogliono assumere. C'è tempo fino al 18 dicembre 2018 per presentare le domande di accesso ai finanziamenti previsti dall'avviso pubblico a valere sul fondo microcredito gestito da Abruzzo Sviluppo. Un fondo che risponde alla duplice necessità di concedere finanziamenti a tasso agevolato a imprese costituende con difficoltà di accesso al credito per l'attribuzione di risorse finanziarie necessarie alla nascita e all'avviamento di un'iniziativa imprenditoriale nonché sostenere imprese esistenti a consolidarsi sul proprio mercato di riferimento. A disposizione c'è un plafondo di 16 milioni di euro ma anche questo fondo rischia di escludere le imprese costituite in SRL che occupano gran parte del tessuto economico locale come già fatto notare dalla compa esercenti. Questo dell'SRL abbiamo posto come problema già nei tavoli tecnici. Purtroppo non è che dipende da noi non può essere finanziato l'SRL in ambito regionale con questi tipi di finanziamenti. E quanto ha spiegato l'assessore regionale al lavoro Lorenzo Berardinetti intervenuto ieri a Sulmona per spiegare i termini dell'avviso. È importante per tutte le imprese della regione Abruzzo. Anche su questo territorio c'è l'opportunità con microcredito di finanziare delle imprese che hanno difficoltà. Primo bando. Secondo bando c'è l'opportunità di finanziare le imprese per le assunzioni dai 10 ai 8 mila euro da 8 ai 10 mila euro per chi assume dei giovani in meditoria. Insieme all'altra garanzia giovane garanzia over è una grande opportunità per tutta la regione Abruzzo per le assunzioni del personale e la facoltà delle imprese di accettare dei finanziamenti aggevolati per le assunzioni. Quindi pensiamo che queste misure possa nascere tanta occupazione. contavamo su circa 1.500 occupati in regione Abruzzo con questi bandi che sono usciti adesso. Il microcredito si articola in due diverse sezioni. Il micro.newco che riguarda il finanziamento di imprese costituende con microcrediti da 5 mila a 25 mila euro da restituire con l'1% di tasso di interesse mentre crescita più riguarda il finanziamento di imprese costituite per il consolidamento e la crescita delle piccole e medie imprese. I finanziamenti saranno concessi a favore di imprese costituite già attive in particolare microimprese che assumono la forma giuridica di diritto individuale di società di persone società cooperative. Ora le re interne perché ormai sono una meta desiderata da Raiano parte una nuova idea un nuovo modello di turismo ce ne parla nel servizio Domenico Berlingeri. Il turismo è una componente fondamentale della nostra regione lo diciamo sempre forse lo abbiamo anche detto sin troppo è il caso che si inizi veramente a fare qualcosa di utile e di propositivo. Così il sindaco di Raiano Marco Moca in occasione dell'incontro organizzato dall'associazione Terracolte d'Abruzzo dal titolo Are interne una montagna di risorse. Nella sala convegni del municipio raianese operatori del settore turistico ambientale ed istituzioni si sono confrontati al fine di individuare quelle innovazioni sostenibili che permettono di aumentare migliorare e innalzare la qualità dei servizi offerti l'obiettivo è quello di perseguire l'unica finalità di mettere a sistema qualcosa di utile per la nostra regione e quanto ha giunto Moca che ha ritenuto importante focalizzare l'attenzione sui vari aspetti del turismo si parla soprattutto anche di quel turismo anche giornaliero che soprattutto il nostro territorio è meta di tanti visitatori l'incontro è stato coordinato dal geologo Paolo Di Giulio presidente dell'associazione Terra e Colte d'Abruzzo ci troviamo di fronte a una situazione per la quale si può cominciare a parlare di turismo veramente perché comincia a vedersi nei nostri luoghi nelle nostre città tipo Sulmona ma sta partendo anche quel turismo nei luoghi diciamo che vengono considerati meno e che invece sono portatori di grandi diciamo di un patrimonio molto grande a livello ambientale a livello storico a livello appunto anche architettonico e intorno a questi luoghi si sta mettendo in campo una strategia per far sì che arrivino qui i visitatori e che possano in qualche maniera godere dei nostri territori è stato posto l'accento sulle opportunità che vengono offerte per la crescita dei giovani e del territorio grazie a turismo sport e natura è il giusto modo di procedere rispetto ad una cornice europea ad una cornice nazionale regionale qui il territorio si organizza per valorizzare per potenziare da parte di tutti è versa la convinzione che le aree interne se valorizzate nella giusta maniera possono rappresentare una montagna di risorse insieme fare progettualità e andarla a promuovere sui mercati internazionali alberghi pieni grazie alla transiberiana d'italia le cifre da capogiro tra il marketing e il campare di rendita sentiamo meglio sono già oltre 10.000 viaggiatori che dall'inizio del 2018 hanno viaggiato a bordo dei treni storici della fondazione FS sulla linea storica su Monacarpinone la transiberiana d'italia continua ad attirare turisti da ogni parte d'italia e non solo per le festività natalizie le corse della transiberiana rappresentano un vero e proprio tocca sana per gli albergatori che grazie al treno storico ritrovano il sorriso se ne è parlato ieri nel corso della presentazione di Natale in corso la tre giorni che darà il via alle festività natalizie a Sulmona gli albergatori possono quindi stare tranquilli e tirare un respiro di sollievo per tutti i weekend di dicembre si prevede almeno un flusso di 8.000 persone quanto basta per riempire alberghi e strutture ricettive è un trend positivo che ci sentiamo di confermare sono veri e propri turisti che per nottano investono sul territorio fa notare il presidente dell'associazione albergatori Domenico Santa Croce anche se il campare di rentina deve comunque andare a braccetto con una forma di marketing noi ad esempio puntiamo sui prodotti del territorio che diventano un veicolo di promozione tiene a rimarcare Santa Croce sono 24 le corse in treno storico da venerdì 30 novembre a domenica 23 dicembre ogni weekend da venerdì alla domenica viaggeranno ben due treni al giorno con la prima partenza da Sulmona alle 8.45 e la seconda sempre dalla città di Ovidio alle 10 da gennaio 2019 l'offerta turistica della Transiberiana sarà ulteriormente potenziata l'associazione Le Rotai ha infatti opzionato ben 72 corsi annuali per effettuare collegamenti in treno storico cadenzati in tutti i weekend e a proposito di promozione del territorio continuiamo a parlare della grande musica della cavernata musicale sulmonese che incassa un altro successo che è Tano Trigilio successo di Gennaro Cannavacciuolo alla Caniglia ha interpretato Yves Montand un atteso ritorno quello di domenica scorsa al teatro comunale Caniglia di Sulmona per Gennaro Cannavacciuolo attore, cantante e cabarettista proprio l'anno scorso Cannavacciuolo al teatro Caniglia aveva interpretato i successi più conosciuti di Domenico Modugno sempre per la stagione della camerata musicale quindi anche un successo per la camerata il cantante e attore torna sul palco del Caniglia ha interpretato un grande nome della musica internazionale Yves Montand cantante e attore italiano naturalizzato francese Cannavacciuolo ha ben interpretato Yves Montand già apprezzato dal pubblico sulmonese ha portato in scena la vita e le canzoni di un mostro sacro come Yves Montand che fu anche un personaggio controverso nello spettacolo sono state riportate le canzoni famosissime del grande artista Gennaro tra una canzone e un'altra ha raccontato i momenti più significativi del grande Yves dai suoi esordi con Edith Piaf al film al quale ha partecipato mentre Parigi dorme io non sono affatto un uomo politico io sono un artista e sono sono commosso di essere qui in questo momento veramente particolare in cui in cui gli scambi culturali servono assolutamente per lo scambio il pubblico della camerata ha molto applaudito l'attore e cabaretista Gennaro Cannaverciolo con sostenuti applausi ed ora l'atteso momento della buona notizia del giorno la famosa confettata abruzzese con 100 kg di confetti scelti tra quelli alla mandorla e vari gusti 5.850 fiori di confetti disposti in 140 composizioni più 1000 sacchetti di confetti da donare agli invitati che dire la tradizione dell'azienda confetti Pelino continua all'interno delle case reali del mondo questa volta si sposta in Medio Oriente un risultato tutto sulmonese tutto italiano che ancora una volta mette in risalto le eccellenze del nostro Made in Italy un matrimonio da favola quello celebrato il 30 novembre scorso che ha visto protagonisti reali del Qatar assieme ai loro 850 invitati in una location ex novo realizzata proprio l'occasione il nostro rapporto con le case reali è una lunga storia una tradizione che rimane nell'albo d'oro della nostra azienda con tutti i riconoscimenti ricevuti lo sottolinea l'azienda confetti Pelino che nel giugno scorso è stata visitata a dei reali in persona che hanno voluto scegliere i loro confetti siamo estremamente soddisfatti del risultato di questa celebrazione continuano dall'azienda grazie al nostro team che recatosi sul posto ha voluto dare il giusto valore all'allestimento data la grande professionalità questa celebrazione dopo quella di Harry e Meghan l'ultima in ordine di tempo realizzata dalla nostra azienda oggi rinsalda ancora di più il rapporto con le famiglie reali e rinsalda la nostra presenza in Medio Oriente una realtà economica consolidata tuttora in espansione proprio per questo pensiamo che il nostro paese è ancora amato per le sue eccellenze ed è proprio su questo che l'economia nazionale deve fare leva noi imprenditori ci siamo e cerchiamo ogni giorno di aggiungere del nostro per far sì che il nome Italia sia sempre al primo posto delle classifiche internazionali quello di oggi è un grosso risultato e noi continueremo a lavorare per dare lustro al prodotto dolciario di Sulmone che arriva direttamente dalla nostra azienda da 240 anni era lo sport il calcio lo vediamo a Sulmona con il tecnico che tira le somme all'indomani dell'inaspettata sconfitta Domenico Berlingeri sicuramente mi aspettavo di più perché segnali di una prestazione del genere soprattutto nel secondo tempo non c'erano la squadra aveva giocato bene domenica scorsa si è allenata bene i ragazzi hanno profuso un buon impegno negli allenamenti e chiaramente quando capitano le occasioni poi bisogna concretizzarle perché se non concretizzi le occasioni che ti capitano quelle poche occasioni che ti capitano è chiaro che al primo errore alla prima incertezza viene castigato e questa l'analisi di Cessilio del Beato che dopo la sconfitta contro il Piazzano insieme alla società si è intrattenuto a parlare con la squadra degli spogliatoi non siamo soddisfatti del trend negativo delle ultime partite evidentemente qualcosa non sta andando come ci aspettavamo chiaramente un conto è perdere con dignità e facendo una grossa prestazione un conto è pareggiare in dieci una partita difficile come quella è perdere in casa 2-0 con una diretta concorrente per la salvezza è un momento nero per Lovidiana Sulmona in quanto nulla sta girando per il verso giusto e anche la sfortuna sta facendo la sua parte per via di alcuni episodi la squadra domenica scorsa oltre alle occasioni mancate all'inizio non ha potuto beneficiare di un rigore nel secondo tempo a parso netto di Ingraccio Susciala che avrebbe permesso di accorciare le distanze si verifica questo ed altro con la situazione restasi particolarmente delicata dopo l'inaspettato cambio tecnico ma in realtà i biancorossi non vincono e non segnano più dal match precedente a quello con il lanciano in questi giorni la società eccesidio del Beato stanno analizzando attentamente a 360 gradi il momento attuale per valutare gli innesti di mercato da effettuare e per far sì che il gruppo possa rialzarsi presto dopo lo scivolone di domenica scorsa ci stanno molti ragazzi bravi che si stanno impegnando e quindi non mi sento di buttare la croce addosso a loro la società sta facendo del suo meglio per cercare di aggiustare alcune cosette cerchiamo di dare tutti il massimo cominciando da questa settimana dalla trasferta di Casalbordino e per il Sumona Regg vi serviva una vittoria che non è arrivata serviva un successo a Teramo per quel che doveva essere la vittoria più importante del campionato non è stato così per il Sumona Reggbi che ha dovuto digerire una dura sconfitta contro l'amatori Teramo primo tempo agguerrito tra due squadre vogliose di chiudere subito le sorti del match con i padroni di casa che si sono fatti vedere dopo i primi 20 minuti riuscendo a segnare due metri immediata la reazione degli ospiti che conquistano sei punti grazie a due calci di punizione di Pierfrancesco Arquilla il primo tempo finisce 19 a 6 per il Teramo che nella ripresa incrementa il punteggio con quattro mete i Sulmonessi non si arrendono e trasformano due mete con Alessio Di Buccio e ancora con Arquilla ma non bastano a colmare la distanza di punti vincono i Teramani per 41 a 19 al termine è stato notevole lo sconforto dei gufetti che con le lacrime agli occhi hanno dovuto accettare il passo falso nell'importante sfida l'obiettivo è adesso quello di recuperare le forze e conquistare la vittoria nel prossimo incontro con le vecchie fiamme dell'Aquila ecco a fine gara la soddisfazione dell'amatori Teramo e l'amarezza del capitano del Sulmona Stefano Casalvieri la partita oggi andava bene positiva su tutti i punti di vista abbiamo chiuso in vantaggio il primo tempo siamo riusciti a giocare bene con i tre quarti la mischia andava bene dopo la partita di andata ci aspettavamo una partita comunque tosta fisica difficile siamo riusciti a gestirla bene abbiamo portato a casa il risultato tutto positivo bravi ragazzi bravo all'Ino fatto medagli il compleanno suo abbiamo perso una partita molto importante purtroppo non ci abbiamo creduto adesso il 16 ci sarà un altro incontro con l'Aquila ancora non è detta tutta però non dobbiamo ridirci di più oggi abbiamo perso una partita troppo importante non siamo entrati con lo spirito giusto dobbiamo riprendere coraggio e iniziare a giocare oggi dobbiamo dovevamo crederci velocemente chiudiamo con lo dico al Tg domande e segnalazioni e curiosità sulle notizie del giorno e non solo che peschiamo sulla pagina facebook di Onda TV con la diretta live di Onda Tg tantissimi commenti vi ringraziamo ci avete seguito in tanti anche questa sera ne leggiamo alcuni bene il nuovo ospedale vergognoso non aver inviato invitato gli ex sindaci Federico Ranalli grazie a loro si è costruito pensiero comune sicuramente ma spieghiamoci che non resti una scatola vuota è un controsenso avere un ospedale declassato in una struttura all'avanguardia poi bene la protesta molto meno quella di alcuni politicanti primo livello punto nascita è una priorità altrimenti sarà una scatola vuota all'avanguardia poi un ospedale innovativo che dà lustro alla nostra città sperando che altri lavori verranno portati a capo le istituzioni in primo piano debbono fare ciò per la città di Sulmona bellissima l'inaugurazione dell'ospedale nuovo ma ora bisogna fare in modo che non sia uno scatolone vuoto ma un edificio sanitario funzionale efficiente a servizio qualunque esso sia il grado di livello non dimentichiamo anche tantissimi ospedali ottima notizia anche il fondo microcredito per le imprese quindi continuate a scriverci sui social noi ci lasciamo con la forisma del giorno come ogni martedì e giovedì dopo di noi Abruzzo Notizie è il punto bene davvero tutto per questa edizione ondoligi torna domani grazie per essere rimasti con noi a tutti una buona sera l'inaugurazione del nuovo corpo ospedaliero di Sulmona o meglio la presa in consegna la GAF istituzionale del sindaco Anna Maria Cassini che ha dimenticato di invitare i suoi due predecessori ci offrono lo spunto per la forisma del giorno a buon intenditor poche parole si dice sempre nelle piazze nei quartieri della città l'ha scritto anche l'ex sindaco di Sulmona Fabio Federico su Facebook per ripercorrere tutte le tappe che hanno portato alla costruzione all'edificazione del nuovo ospedale di Sulmona e noi l'abbiamo intervistato per ripercorrere tutto l'iter e per fargli commentare questa notizia e questo aforisma del giorno mi fa un effetto stupendo meraviglioso perché la mia città è dotata di un ospedale che è un fiero all'occhiello dal punto di vista strutturale nel centro-sud Italia perché non ce ne sono di uguali che mi risulti sì, è un progetto che partì sotto la mia amministrazione a cui parteciparono i miei assessori Cirillo, Guerra mi sembra dire Abbassi e altre persone per esempio il direttore generale dell'allora direttore generale Silveri con i quali mettemmo a punto questo progetto andarono loro a vedere l'ospedale come era realizzato di fatto mi sembra a Conegliano Veneto e realizzammo poi il progetto a Sulmona trovando i fonti attraverso un'operazione che io definisco intelligente che fu anche criticata ma fu un'operazione intelligente di questi risultati con il direttore Silveri e oggi è una cosa che la città ha è vero è stata fatta dalla mia amministrazione poi c'è stato il sindaco Ranalli che ha posto la prima pietra e a lui va anche il merito di averlo fatto il sindaco attuale che ha tagliato il nastro è al merito al sindaco attuale di aver tagliato il nastro ma è qualcosa che è di più importante questo è qualcosa che ha la città il buon gusto avrebbe voluto così come quando si inaugurò il teatro che non so anche i sindaci non hanno partecipato a questi fossero fossero invitati alla manifestazione però non ci attacchiamo a questo perché ripeto la cosa importante è che la città sia dotata di questa importantissima struttura adesso però chi governa ha la responsabilità di renderla come dire efficace questa struttura perché non si può dire che si è concluso il percorso quando si è un ospedale antisismico dentro questo ospedale ci vanno delle strutture importanti che non si può immaginare che siano situate in ospedali che sono francamente fatiscenti devo dire in regione ed in provincia perché ho visto gli atti e sono ospedali che veramente sono a rischio e quindi credo che alcune cose importanti come la chirurgia con le nostre sale operatorie all'avanguardia ma io mi allargo a dire anche l'emodinamica vadano posti in posti sicuri dove la gente è sicura che anche in corso di terremoto ti salvano la pelle e questo lo si può fare oggi sul Mona iscriviti al canale Grazie a tutti.